Personale del corpo guardie di città in servizio davanti alle scuole del comune di Cascina entra in vigore il nuovo servizio denominato Sentinelle a scuola. Le cinque scuole dove svolgevamo servizio ogni mattina da stamani affianchiamo un uomo delle guardie di città che provvederà ad agevolare l'attraversamento dei bambini e dei genitori seguendo alcune regole che il questore ha impartito approvando un apposito regolamento. L'accordo con l'Istituto Privato di Vigilanza è in seguito al bando pubblicato dal comune di Cascina. In concreto questo nuovo servizio aggiuntivo delle guardie di città ci permette per esempio la mattina di essere operativi appena presso servizio senza dover aspettare la fine del servizio scuole. Quindi anche noi possiamo fornire alla cittadinanza un servizio ulteriore per esempio in caso di incidenza stradale. Il bando segue la sperimentazione dello scorso anno ed ha visto anche la riconferma del servizio notturno. Dalle 20 della sera fino alle 5 della mattina una loro pattuglia girerà per il territorio di Cascina avendo cura dell'integrità dei beni di proprietà comunale e nel contempo c'è della segnalazione di ogni cosa loro riscontrino fuori posto. Saranno in collegamento con noi e con le forze dell'ordine. Intanto la polizia municipale cascinese avrà presto 4 nuovi agenti. Potrò disporre di 4 uomini in più più 2 a tempo determinato per il periodo estivo purtroppo andando a pensione 2 colleghi e quindi comunque nel saldo rimane sempre il bilancio positivo.